Questi uomini che vivevano avevano reti. Ecco che ciò che sogniamo. Poi farete il legno. Ho capito? E poi anche le pareti in legno. Insegniamo. Quinto, sesto, primo secolo, metà del ferro. Cinquecento anticristo, avanti Cristo. Passivamente il corpo. Magari succedono. Che la maestra non possa leggere, lo scrive. E con questo anello di bracciale li hanno trovati nella tomba di una donna. Capito? Erano stati trovati e erano puliti. Perchè? Erano abbastanza puliti. Perchè? Un po' più puliti di adesso. Perchè? 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 Perchè?